C'è la Lido San Corrente, abbiamo l'autorizzazione mandata dalla Lido. Si può formare un corte? No, nessuna sigla politica. Abbiamo un'autorizzazione. No, non ce l'hanno mandato, abbiamo mandato l'autorizzazione. Non ce l'ho. Da lì la vende. Chiedo scusa, se mi posso permettere, adesso per raccogliere le firme noi dobbiamo esibire una... E' il sindaco che fuma nei corridoi del comune? Non facciamo niente, non facciamo niente, ci faccio fare cose che servono anche a lei e ai suoi figli. Ma se fa il suo lavoro, vada a fare il suo lavoro anche dove deve. Dai, dagli il documento e non ti preoccupare, qual è il problema? Dagli solo il documento e non ti preoccupare. Io ho dato il documento alla politica. Vedevi d'accordo? Mi mostro, sto qua tutto il giorno. Dalila Venneri è nata a Crotone il 16 e il 34. Venneri. Cioè, ma qua c'è una città. Rosario Rizzuto è nato a Catanzani il 32 e il 72. Che figlio è nato a Crotone il 17 novembre del 77. Gliel'ho già detto, basta. Stiamo facendo una cosa, stiamo facendo una cosa, io già glielo ho date le mie generalità, non le ripeto due volte, non le ripeto, già glielo ho detto, non mi ripeto due volte, non mi ripeto due volte, no no io l'ho data alla polizia, glielo ho già data, ma come mai sta cosa? 10 per o 6,84, se volete poi vi diamo tutte le liste di tutto, tutti, tutti, tutti lo facciamo tutti poi, vada, 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 ma ci rendiamo pronta per quanto c'è?